Il 67enne pregiudicato Felice Campanale è stato freddato a colpi di pistola in Viale Gandhi ad angolo con Viale dell'Aurentis nel quartiere Poggio Franco di Bari. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 21 in un'ora in cui ancora molta gente è per strada o sta per rientrare a casa. Nello stesso agguato è rimasta ferita una persona della quale non sono state rese note le generalità. Quella che con ogni probabilità sta diventando una vera e propria faida tra gruppi rivali non guarda in faccia a nessuno. In queste stesse ore nel quartiere San Girolamo di Bari si sono uditi altri colpi di pistola, nessuno però è andato a segno. Potrebbe trattarsi di un avvertimento e niente esclude che i due avvenimenti di cronaca siano interconnessi tra loro. I carabinieri indagano in queste ore per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili delle due diverse sparatorie. L'unica certezza è che Bari in questa circostanza appare sempre meno sicura e sempre meno a misura di cittadino.